e poi c'è stata la terza ondata è quella di oggi e mi erano arrivate delle voci molto negative al riguardo però vedrò ho frequentato un paio di gruppi e femministi qua a Milano e vedrò la maggior parte hanno la testa sulle spalle e il cuore la parte giusta addirittura non mi vogliono perché c'ho il cazzo progressiste e mi danno dei consigli tipo per esempio in teoria uno un ragazzo se tu cammini di notte dietro una ragazza non dovresti starle dietro dovresti sorpassarla di modo che sia rilassata che tu non la stai inseguendo no no ok vedrò dipende perché se lei comincia a correre io la rincorro per sorpassarla qualche cazzo cioè no 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 che faccio la supero merda